Buonasera e bentrovati con l'ultima puntata di Polis. Ormai si avvicina all'appuntamento elettorale previsto per sabato e domenica quando 26 comuni della nostra provincia rinnoveranno sindaco e i rispettivi consigli comunali e ricordo che si voterà anche per le elezioni europee. Questa volta per la prima volta si vota di sabato e sarà opportuno che qualcuno non se ne dimentichi. Subito vi presento i candidati del comune di Cortona, uno dei comuni insieme a San Giovanni Valdarno dove si vota con il sistema proporzionale. Subito alla mia sinistra, alla vostra destra, Luciano Meoni, sindaco sciente, espressione di futuro per Cortona e della lista centrodestra per Cortona, Luciano Meoni, sindaco. Non so se è esatta la dicitura, comunque siamo lì. Andrea Vignini, espressione del centro-sinistra e appoggiato da Cortona Civica, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Poi abbiamo Verusca Castellani, espressione della lista unità-sinistra per Cortona. Infine Nicola Carini, espressione del centro-destra appoggiato dalla lista della Lega, dalla lista Carini Sindaco, che è formata da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Italia. Infine dalla lista Alleanza Civica per Carini Sindaco. Chiude il cerchio dei cinque candidati, Sara Baldetti di Italia Viva. Subito la prima domanda che pongo ai nostri candidati, la presentazione e la scelta e la motivazione e la scelta politica della loro discesa in campo. Mioni, inizio da lei. Sì, innanzitutto per continuità amministrativa. Noi abbiamo governato cinque anni, al di là di queste ultime divisioni abbiamo dimostrato di saper gestire il territorio, quindi di fare opere pubbliche che erano ferme da anni, manutenzioni, ma di portare anche eventi a sviluppo economico e sociale. Quindi ci ripresentiamo perché crediamo che la continuità amministrativa possa portare giovamento a tutto il territorio e quindi credo che possiamo giocare la nostra carta. È chiaro che la nostra squadra è una squadra uscente che si è arricchita con questa legislatura, quindi potrà ancora meglio portare avanti le varie situazioni sul cortonese perché abbiamo un'esperienza acquisita, una professionalità, abbiamo dimostrato di essere persone corrette e soprattutto persone che amano il proprio territorio. Quindi noi siamo davvero soddisfatti di questa campagna elettorale e ci ripresentiamo perché crediamo che il cittadino possa apprezzare il nostro scopo, cioè quello di non guardare niente altro che non il territorio stesso. Quindi ecco, diciamo che facciamo un appello, la continuità amministrativa è importante e noi la stiamo conducendo al massimo delle nostre forze e abbiamo anche progetti futuri che potranno portare sviluppo economico e sociale, soprattutto al territorio comunale di Cortona, ma abbiamo anche tante iniziative che andranno portate avanti, tra cui le opere che sono in itinere e anche quelle future. Grazie, è stato più breve di 15 secondi, ma giustamente è bene anche parlare di meno per parlare di più. Lei mi chiedeva la continuità, immagino che Vignini chieda la discontinuità. Sì, in effetti devo dire che io potrei cavarmela dicendo che le motivazioni sono diametralmente opposte a quelle che ha appena finito di spiegare Luciano. Noi riteniamo invece che questo mandato elettorale sia stato pressoché fallimentare e riteniamo anche che Cortona abbia perso molti posti in classifica all'interno della provincia di Arezzo e della regione toscana, soprattutto su settori strategici come le politiche sociali, come la cultura e il turismo. Mi presento di nuovo con una coalizione allargata di centrosinistra che ha il suo perno nel Partito Democratico, poi il Movimento 5 Stelle, direi che questa è una novità assoluta, almeno in provincia di Arezzo è comunque una delle prime esperienze a livello toscano e poi con la lista Cortona Civica che io ho contribuito a fondare, che in questi cinque anni si è occupata soprattutto di iniziative di tipo culturale. La nostra intenzione naturalmente è quella anche di aggregare ulteriormente, tant'è vero che dentro Cortona Civica ci sono anche altre esperienze culturalmente politicamente diverse, ma fra le altre c'è un rappresentante del Partito Socialista Italiano e un altro di Europa Verde. Insomma praticamente la gran parte, devo dire, del centrosinistra riformista è rappresentato. Noi crediamo che Cortona debba tornare ad essere quello che era stato e nello stesso tempo crediamo anche che si debba guardare alle sfide del futuro, una tra tutte, la contingenza ambientale che ultimamente noi stiamo verificando anche nel nostro territorio, sta dando cambiamenti numerosi e non sempre piacevoli. Speriamo naturalmente che ci sia da parte dei cittadini una buona accoglienza. Grazie Vignini, Verusca Castellani di Unità Sinistra per Cortona, a lei. Niente, il motivo per il quale ho deciso di candidarmi è stato sostanzialmente uno, cercare di ridare a Cortona una visibilità di tipo diverso, puntando su quelli che sono i valori della sinistra, sinistra vera. È proprio per questo che abbiamo deciso di chiamarci Uniti a Sinistra per Cortona perché riteniamo che i valori di sinistra in questo momento a Cortona non siano assolutamente rispecchiati da nessun punto di vista, perché comunque c'è stato oltre ad un abbassamento di cultura, di valori, di tutta una serie di cose, abbiamo cercato sin da subito di portare una fase di rinnovamento. Uno dei nostri slogan principali è stato proprio il coraggio di cambiare. Coraggio di cambiare perché vogliamo proprio partire da una rinascita anche nel modo di fare politica, anche nel modo di approcciarsi alla politica, al territorio, alle politiche sociali veramente, cercando di incidere in maniera attiva in quelle che sono le problematiche di Cortona. Non a caso nel nostro programma una delle cose principali sono proprio l'istituzionalizzazione dei comitati di partecipazione che fanno sì che la cittadinanza diventi veramente attiva in quello che è la programmazione e poi la realizzazione delle cose da fare nelle frazioni. Grazie, grazie Verusca e do la parola a Nicola Carini, espressione del centro-destra. Sì, noi invece crediamo che abbiamo avuto troppa continuità amministrativa rispetto anche alle legislature PD e noi chiedevamo più coraggio rispetto ad alcune scelte, penso uno su tutti la riorganizzazione delle figure apicali degli uffici, tipo per esempio il segretario comunale che non è stato cambiato e che incideva in maniera importante e pesante rispetto alle scelte amministrative. Crediamo che la politica sia importante, una politica forte, una politica che decide perché noi chiediamo il voto ai cittadini, non possiamo assolutamente che chi decide è una struttura tecnica ma dobbiamo far incidere appunto la politica. Chiedevamo un coinvolgimento maggiore, non ci è stato dato, abbiamo avuto la stessa sensazione come tutti i partiti di centro-destra e questo ha comportato il fatto di non riappoggiare il sindaco uscente. Crediamo che un altro dato importante della nostra amministrazione dovrà essere un coinvolgimento e una partecipazione con tutti gli enti sovracomunali perché crediamo che Cortona non si salvi da sola e dobbiamo avere anche un rapporto diverso con i comuni limitrofi, penso all'ambito turistico, penso all'ambito sanitario dove secondo noi abbiamo fatto troppo poco, troppo poco squadra, squadra che poi sarà fondamentale anche nel futuro perché non ci sono persone solo al comando ma dobbiamo creare una sinergia verso tutti gli attori, tutti i protagonisti che sono in campo. Questo lo stiamo facendo anche adesso in campagna elettorale, stiamo agendo come fossimo un partito unico e questo credo che farà differenza adesso e dopo. Sara Valdetti di Italia Viva, prego. Allora, mettersi in gioco per noi è stato un impegno fin dall'inizio molto pesante perché comunque abbiamo fatto le valutazioni necessarie ma effettivamente ci siamo trovati di fronte a squalizioni che rappresentavano populisti e sovranisti e da cui noi ci discostavamo totalmente proprio come politica d'ideale. Ovviamente per Cortona noi abbiamo un progetto rivoluzionario, abbiamo un'immagine, abbiamo cercato di comunicare un'immagine di Cortona totalmente diversa da quella che è attuale in cui la sostenibilità, la rivoluzione energetica, tutto quello che è la transizione ecologica diventeranno attori principali. Ovviamente ci aspettiamo un buon risultato soprattutto dal punto di vista dei giovani perché il nostro progetto è stato ampiamente sposato da tanti gruppi di giovani e quindi siamo riusciti a far comunicare che Cortona può essere qualcosa di totalmente diverso di quello che è ovviamente una nuova gestione dei rifiuti, servizi, trasparenza, digitalizzazione, un insieme di cose. Il nostro programma secondo noi è una rivoluzione culturale. Ricomincio da lei Sara perché questa è una domanda che mi è venuta da Chito passando ieri proprio venendo a Cortona da Foiano e sono passato da Creti. Ecco lei sulla questione Creti che idea sei fatta? Allora sono a favore, l'ho detto fin dall'inizio, l'alta velocità secondo noi è un volano di sviluppo economico, un ponte verso il mondo e di collegamento verso il mondo. Inoltre l'investimento che supera i 50 milioni di euro riteniamo che sia importante che rimanga nel territorio proprio in termini economici, però ovviamente la storia ci insegna che vicino a una stazione o comunque a luoghi di collegamento importanti, quali sono porti e stazioni, si sviluppano grandi economie. Nicola? Passo Creti, mi fa piacere che mi fai questa domanda così facciamo ulteriore chiarezza. Noi abbiamo avuto una posizione molto chiara, siamo stati accusati e tacciati di essere a favore di Rigutino, io ho votato una mozione in Consiglio Provinciale alcuni anni fa dove il tavolo tecnico diceva Rigutino, quindi siccome faccio l'amministratore e non faccio il tifoso mi sono attenuto a quei dati tecnici. Peccato che il Comune di Cortona poi quando il tavolo tecnico diceva Creti ha votato inconsciamente probabilmente, ma lo ha fatto per Rigutino anche il Comune di Cortona. Fare campagna elettorale però sulla stazione di Creti vuol dire aver poco da dire perché non sarà certo il sindaco di Cortona che deciderà la localizzazione, cosa ben diversa che invece dovevamo fare e non abbiamo fatto è mettere mano assolutamente alle stazioni già esistenti per dare anche alle stazioni di Toronto e Camuscia una dignità che adesso è da troppo tempo che manca. Crediamo che quello sia il dato significativo, abbiamo poi lanciato il discorso dell'Interporto come intervento infrastrutturale importante, stiamo già parlando col Governo e non ultimo il Ministro Salvini ha detto che nelle prossime settimane si metterà la parola definitiva e finale sul discorso di Creti. La nostra posizione è sempre stata netta sin dall'inizio, noi abbiamo detto no assolutamente anche se ritengo che di tutto questo se ne possa parlare, condivido la posizione di Carini non deve essere un punto della campagna elettorale perché proprio il Comune ha in questo momento veramente la minor competenza possibile in questo genere di cose. Le motivazioni per le quali abbiamo detto no sono molto semplici, al di là della devastazione territoriale che questo comporterebbe e il tavolo tecnico ne ha ben donde, ha detto più volte questa cosa. Non sarebbe tutto questo indotto che ci vogliono far pensare i nostri competitor perché l'indotto sicuramente non appartiene dal punto di vista della manovalanza sicuramente non è parte del nostro territorio perché ci sono degli appalti a cui probabilmente le nostre aziende non potrebbero nemmeno partecipare e tantomeno poi il discorso infrastrutture successivo perché comunque tutte le infrastrutture che stanno dietro a questa opera mastodontica aspetterebbero comunque al Comune e quindi siamo in grado, non siamo in grado quindi prima di fare veramente il tifo da stadio rispetto a questa cosa io credo che sarebbe opportuno analizzare le ragioni del tavolo tecnico e quello che ne è venuto fuori. Grazie Castellani, Vignini. Io come dire ho espresso molto tempo fa la mia opinione proprio qui davanti alle telecamere di Teletruria quando ancora non ero neppure candidato. Ho sempre ritenuto che qualora questa opera così enorme venga realizzata nel territorio cortonese noi si debba appoggiarla. Sono anche consapevole che anche dentro la mia coalizione ci sono idee diverse ma ovviamente nel momento in cui si sceglie un candidato a sindaco si decide anche di affidare a lui le decisioni almeno quelle macroeconomiche e quindi in questo senso la mia posizione viene confermata questa sera. Io credo che si tratti di un'opera che, questo è l'unico dubbio che ho, qualora venga realizzata, porterà sicuramente lavoro e ricchezza nel nostro comune e un candidato a sindaco di Cortona non possa in nessuna maniera rifiutarla. Dopodiché anch'io sono d'accordo sul fatto che bisogna premere sulle ferrovie dello Stato in modo che si metta anche mano alle due stazioni del nostro territorio che versano in condizioni pietose. Così come sono d'accordo sul fatto che la progettazione di quest'opera mastodontica debba avere particolare attenzione alla maglia agraria nel suo complesso. Ma queste sono questioni sulle quali evidentemente ci eserciteremo in seguito quando avremo un quadro più preciso. Ad oggi non rimanendo nei massimi sistemi io credo che non si possa fare a meno di dire che un'opera come questa porta a Cortona visibilità e progresso, lavoro e ricchezza e non si possa rifiutare. L'ultimo minuto e mezzo Luciano Mioni. Sì sinceramente noi siamo stati quelli che hanno promosso iniziative a partire da Sant'Agostino due anni fa con un convegno sull'alta velocità che si era come dire fermato tutta la discussione. L'abbiamo riportata al centro. Ho sempre detto che il tavolo tecnico doveva decidere, il tavolo tecnico ha deciso per Creti, sono entusiasta come sindaco di Cortona e vorrei la stazione a Creti perché credo nello sviluppo economico e non solo turistico del territorio. A Carini dico bene, lui ora gioca queste parole, il comune ha votato che è un dupe che non c'entra assolutamente niente. Vorrei credere a Carini e continuare a credergli nel senso che faccia una mozione oggi in provincia dove lui è vicepresidente e consigliere e voti a favore di Creti. Vediamo se i suoi amici retini poi gliela passeranno meno perché è troppo facile dire io sono, sono, sono. Il suo amico oggi, che fino a qualche tempo fa era un nemice, il suo amico Casucci ha un viglio che oramai sta girando, è virale, dove dice che lui è per Rigutino, si mettono d'accordo almeno fra di sé. Ma noi abbiamo anche il vanto di aver portato a Terontola il Frecciarossa, grazie a me, al mio impegno, grazie a Silvia Spencerati, il nostro assessore e grazie a Melasecchia, assessore a Regione Umbra, senza che la regione toscana abbia mosso foglia, quindi abbiamo portato un Frecciarossa a Terontola che non era scontato. Su Vignini, sempre sulla solita stazione a Creti, dico che uno dei suoi uomini che lo sta appoggiando, che tra l'altro è presidente anche di Lega Ambiente, è contrarissimo, ha fatto già manifestazioni contrarie, quindi credo che una giunta Vignini non potrà assolutamente avvallare questa stazione. Gli unici che credono alla stazione a Creti siamo noi, lo abbiamo dimostrato con i fatti e non solo con le parole e siamo convinti che la stazione a Creti si potrà fare e che porterà grande soddisfazione a tutto il territorio, in termini economici e in termini di lavoro. Bene, si conclude la prima parte dedicata al Comune di Cortona con i candidati che concorrono la carica di sindaco. Restate con noi a tra poco. Seconda parte dedicata al Comune di Cortona, inizio con un tema che in parte è stato sfiorato negli argomenti iniziali dai nostri ospiti, ovvero il turismo. Cortona è stata per anni definita la capitale del turismo in provincia di Arezzo. Quali sono le vostre proposte per incentivare e aumentare questo richiamo che Cortona ha, questa presa che Cortona ha, non solo dalle nostre parti ma in tutto il mondo? Luciano. Bene, il turismo è l'industria più grande che abbiamo a Cortona, nonostante fortunatamente ci sono aziende che stanno veramente crescendo in maniera esponenziale. Noi abbiamo anche durante i due anni di Covid promosso il turismo con cosa? Abbiamo fatto del marketing internazionale, abbiamo collegamenti con anche nuove realtà, pensiamo a Malta, al gemellaggio con Valletta, tutta la storia di Laparelli. Abbiamo portato veramente tantissimi consensi e tantissime attenzioni anche con Carmen dell'Indiana, con l'America. Abbiamo costruito dei ponti molto importanti. Inoltre ricordo quello che è stato un nostro punto di forza, la mostra Signorella Cortona, con 36 mila ingressi reali, dico reali perché qualcuno oggi vanta altri eventi che non mi risulta che abbiano avuto simili risultati. È chiaro che stiamo sviluppando questo marketing e siamo riusciti ad ottenere delle percentuali soddisfacenti, più 24% in più rispetto a tutto l'ambito, sono numeri, non è che sono cose così campate in aria. E quindi siamo molto soddisfatti di questo. Cortona sta salendo a livello turistico, tant'è che tutti gli operatori si sono accorti, fortunatamente, che non sono più 4-5 mesi all'anno che lavora Cortona, ma sono bensì 10 mesi all'anno che può lavorare. Perché chiaramente abbiamo allungato il trend sul turismo. C'è da fare ancora molto di più. Siamo in corsa con i cammini, con Cortona città francescana. Abbiamo portato davvero tante novità a Cortona e non più i festival come usavano una volta, fatti dalle precedenti amministrazioni, che costavano tanto ma non producevano nulla. Vignini? Io penso che i dati che Meoni sbandiera sono dati riferiti al pre-Covid, perché se facesse lo stesso confronto con i dati dei miei anni da sindaco si accorgerebbe che è nettamente più sotto. Così come rispetto alla mostra dei signorelli, bella iniziativa, non c'è il paragone con quello che abbiamo fatto noi. Intanto perché c'era una visione complessiva che su questa non c'è. E poi perché noi abbiamo avuto rapporti con le più grandi istituzioni culturali del mondo, l'Ermitage, il British Museum e il Louvre. Così come dal punto di vista strutturale, la creazione del parco archeologico, la ristrutturazione e restauro della chiesa di Sant'Agostino, che oggi ha un auditorium forse il più bello della provincia, sono tutte realizzazioni fatte durante i miei due mandati. Anche rispetto ai festival, devo dire che ognuno può avere l'opinione che vuole, però io credo che il Tascansan Festival e il Mix Festival fossero iniziative che hanno sicuramente portato lustro a Cortona. C'è un dato infine che io voglio ribadire qui e che è l'unico forse che conta. Io sono entrato nel 2004 e a Cortona c'erano 42 agriturismi, nel 2014 quando me ne sono andati erano 146. Evidentemente questa espansione della offerta significa anche che c'è stata una uguale espansione degli arrivi turistici, soprattutto stranieri, che oggi, dati alla mano, sono invece in diminuzione. Castelli. Questo è il classico esempio di quello che avviene a Cortona ed è quello che sotto un certo punto di vista noi cerchiamo di evitare il fatto che qualcuno abbia fatto meglio dell'altro e quindi io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, quello che ho fatto io è fatto bene, quello che hanno fatto gli altri è sbagliato comunque a prescindere. Cortona in questo momento è una situazione abbastanza strana perché comunque il turismo che frequenta Cortona è un turismo mordiofuggi, le persone non rimangono a Cortona perché non c'è più il gusto del turismo lento, quindi vengono, magari vanno a vedere la mostra, magari vanno a vedere un'altra cosa, però non stanno lì, quindi questa problematica noi ce l'abbiamo e proprio per questo che nel nostro programma, la nostra idea è quella di pensare al futuro di Cortona, non tanto a quello che è stato il passato, perché ripensare al passato significa soltanto non andare oltre quella che è la nostra idea del fare turismo a Cortona. Abbiamo un territorio vastissimo, enorme, che ci consente oggi di poter fare tante cose per allettare turismo, ma tutto questo deve essere fatto attraverso una programmazione adeguata, i percorsi di fede devono avere una programmazione a livello amministrativo, la stessa cosa deve essere fatta attraverso di trekking, attraverso i percorsi enogastronomici, il vino, quindi creare delle situazioni che possano essere non solo programmate ma anche pubblicizzate talmente tanto tempo prima che le persone abbiano poi la possibilità di poterle vedere e organizzarsi per venire nel nostro territorio. E per quanto riguarda gli agriturismi, per carità, perché non tutti gli agriturismi che sono sorti all'interno di Cortona lasciano i soldi nel territorio di Cortona. Gran parte delle aziende che sono nate a Cortona spesso e volentieri sono gestite da stranieri e i soldi non rimangono nemmeno nel nostro territorio. E questo è un dato che abbiamo analizzato negli ultimi tempi. Nicola? Sì, anche per noi il turismo è fondamentale, insomma Cortona è un asset importantissimo in questo settore, crediamo che dobbiamo investire in questo senso attraverso la creazione di un calendario che venga fatto alla fine dell'anno per sapere tutti gli eventi che vengono fatti a Cortona nei 12 mesi. Adesso non sappiamo nemmeno quello che succede fra un mese e un mese e mezzo a Cortona, noi crediamo che questo vada cambiato. Oltretutto crediamo che sia Cortona ma anche le frazioni più grandi debbano avere un calendario dedicato, penso a Camuscia a Terontola. Questo farà la differenza perché come abbiamo visto quando facciamo degli eventi in queste frazioni funzionano, quindi dobbiamo mettere a sistema tutto questo ragionamento. Dobbiamo avere un centro storico vivo, dici cosa c'entra col turismo? C'entra perché il turismo che viene a Cortona è un turismo particolare che vuol vedere una città viva e non un centro commerciale all'aperto. Per fare questo poi dobbiamo potenziare alcuni servizi, penso uno su tutto il discorso del parcheggio attraverso il servizio Navetta che parta da Valle. Noi crediamo inoltre che sul turismo dobbiamo fare un attento ragionamento sul turismo sportivo che può fare veramente la differenza. Per fare quello è una delle nostre caratteristiche che abbiamo messo in programma, dobbiamo investire sugli impianti sportivi perché ad oggi non riusciamo a ospitare eventi di rilievo nazionale o internazionale. Crediamo che quindi quella sia un dato importante. Chiudo con una collaborazione, lo ripeto, con l'ambito turistico perché se ci promuoviamo come Valdichiana, sicuramente all'interno della Valdichiana Cortona è il punto di riferimento, ma se la vediamo in questo senso qui può fare la differenza. Cortona da sola non si salva se non è inserita in questo sistema. Sara Baldetti tocca a lei. Allora, anch'io ritengo che tutto ciò che è turismo e cultura per noi sia una fonte economica importante e noi in realtà viviamo moltissimo con questi introiti. Ovviamente ritengo che sia necessaria una programmazione di eventi precisa e con dovuto anticipo, nel senso che secondo noi a gennaio deve uscire un calendario con tutti gli eventi dell'anno che verrà. In questa programmazione verrà ovviamente inserito tutto quello che sono attualmente attive, ovviamente la programmazione che riguarda eventi musicali o comunque quello che verrà nuovamente promosso perché per esempio noi abbiamo un progetto sul sentiero 50, quindi tutto quello che è anche da fare sul turismo lento, l'utilizzo delle biciclette, il trekking, un insieme di cose che vanno verso un turismo di sostenibilità. Sembrano cose poco rilevanti, ma in realtà il futuro si sta muovendo a una velocità e questo tipo di turismo sta dando dei grandi risultati e riteniamo che sia importante avere appunto questo tipo di turismo, avere persone che si fermano per lunghi periodi nella nostra città. Ovviamente ritengo che anche la verifica di quello che è la tassa di soggiorno e l'utilizzo della tassa di soggiorno con finalità appunto di investimenti relativa al turismo debba essere comunicata, così da far capire anche a tutti l'utilità di essere regolari e puntuali. Ovviamente tutto quello che è mobilità andrà rivisto sia in termini di implementare e promuovere il cash sharing, programmare navette che portino da Camuscia, il sodo, Teronto, la Cortona, in modo da avere una città, anche un centro storico più sostenibile. In più ovviamente gli eventi sono tanti, non posso elencarli tutti. Grazie, grazie Sara. Ricomincio da lei perché il tema è legato sempre all'economia, commercio, agricoltura, piccole e medie imprese. In un minuto mi dice quali sono le vostre proposte? Allora, per tutto quello che riguarda l'agricoltura noi abbiamo un progetto di marketing territoriale, vogliamo imitare il Trentino con la vendita del prosecco, ma inserendo anche altre cose oltre il prosecco, l'olio e altri prodotti, anche il pane etrusco perché abbiamo un grano etrusco che è stato ritrovato e quindi il seme è stato ricoltivato, che non ha glutine, che è eccellente, che va promosso, gli va creato un marchio, va commercializzato e va comunicato al mondo che è un pane che forse è il migliore del mondo. Per quello che riguarda l'agricoltura, anche l'energia che può derivare dall'agri fotovoltaico, noi siamo favorevoli, anche la degassificazione di tutto quello che è il liquame, quindi progetti di degassificazione e produzione di energia. E poi per quello che riguarda l'economia, noi intendiamo creare le condizioni perché il bilancio di sostenibilità sia applicabile, quindi abbiamo già dei punteggi e quindi essere attrattivi per gli investitori. Carini? Ma guarda, noi abbiamo messo nero su bianco sul programma di creare un ufficio unico per le imprese, crediamo che un cittadino che viene in comune debba avere un unico referente che gli segue la pratica dalla A alla Z. Dobbiamo sicuramente stare molto attenti al discorso dell'olio perché è un prodotto, soprattutto quello artigianale, molto importante per il territorio, che ci garantisce anche una sostenibilità ambientale perché sono coloro che custodiscono il nostro territorio. Abbiamo una strada dei vini importanti perché il nostro vino è uno dei migliori che ci sono in circolazione, sta portando il nome di Cortona in tutto il mondo. Vogliono semplicemente considerazione e aiuto non economico ma organizzativo da parte dell'amministrazione comunale. Ho accennato prima al polo logistico che sarà un'opportunità importantissima per il territorio, per la zona di Terontro e non solo per riportare le imprese nel nostro territorio. Faccio un esempio su tutti, anche in termini infrastrutturali, non possiamo avere una zona industriale come quella del Vallone senza acqua, quindi credo che sarà il momento di servire quella zona in maniera adeguata, visto che il progetto è lì pronto dal 2018 e non è stato finanziato. Grazie Carini, Verusche. Cortona, oltre ad avere un territorio molto vasto, ha anche diverse produzioni di nicchia, quindi noi abbiamo, al di là dell'olio, che è sicuramente una di quelle cose che deve essere valorizzata e portata a conoscenza, divulgata a livello nazionale, il vino, ma abbiamo anche una cultura come l'aglione, finocchio, perché c'è il più grosso produttore di finocchio nel nostro Valdichiana, che non ha nemmeno la possibilità di poterlo produrre, quindi però è uno di quei prodotti di nicchia che secondo me devono essere valorizzati ed anche prendere contatti con i colossi commerciali, a ciò che possano prevedere la possibilità di vendere i nostri prodotti, soprattutto nelle nostre zone. Questo sarebbe sicuramente una cosa molto interessante. Ovviamente, per quanto riguarda il centro storico, visto e considerato che lo spopolamento di Cortona ha comportato anche la chiusura di molti generi alimentari, pensare anche dei negozi di prossimità che possano comunque contribuire allo sviluppo dell'economia dentro il centro storico. Come è stato detto, olio, vino, naturalmente, tutte le altre produzioni di qualità sono essenziali. Concordo con chi mi ha preceduto su una cosa, cioè che rispetto al consorzio dei vini, soprattutto alla produzione di Sirà, che ormai è diventata, diciamo, leggendaria, noi dobbiamo cercare di inserire questa associazione all'interno delle nostre produzioni culturali, perché di cultura si tratta, anche segnalando che il nostro territorio è città del Sirà, territorio del Sirà, così come abbiamo scritto tante volte che era terra etrusca, ora dobbiamo anche rendere più noto al mondo che abbiamo questa produzione così importante. Noi abbiamo realizzato in questa campagna elettorale una importante, credo, iniziativa proprio sull'agricoltura. Tutte le organizzazioni agricole hanno partecipato. Noi riteniamo che bisogna mettere a sistema questo settore. In questo senso, utilizzando sia i grandi produttori, come per esempio Aboca, il fondatore di Aboca ha partecipato con grande soddisfazione al nostro convegno, sia Bonifiche Ferraresi, ma rimanendo anche con la stessa attenzione sui piccoli produttori e i piccoli agricoltori. I problemi ci sono, per esempio uno molto importante, quello dell'inquinamento delle falde acquifere, che deve essere affrontato. Naturalmente non possiamo risolverlo da soli, ma è necessario fare una pressione molto forte sulle istituzioni sovralocate, in particolar modo sulla regione e sul governo nazionale, perché evidentemente quello che era un tempo il granaio dell'impero deve rimanerlo. Neudi? Sì, la nostra amministrazione ha dato abbondantemente esempio di come si promuovono i prodotti locali a partire dallo spostamento della mostra del vitellone da Camuscia, che era un ciclo ormai chiuso, alla fratticciola su un contesto più agricolo e quindi con due giornate ricche e piene, quindi la nostra chianina è stata promossa. Le altre amministrazioni hanno fatto sì che il consorzio della chianina si spostasse altrove invece che nella Val di Chiana cortonese. Quindi diciamo che noi abbiamo fatto una promozione a 360 gradi. Il vino è una nostra eccellenza, le nostre cantine, che ringrazio tutte, sono diventate oramai punto fisso per il turismo internazionale, non solo per la qualità del vino, ma per le location, per la bellezza, per il miglioramento agricolo e imprenditoriale del territorio. Abbiamo un aglione che è un'altra eccellenza e lo stiamo promuovendo, ma siamo da poco entrati anche nelle città dell'olio, perché l'olio non solo è un ottimo prodotto, ma i nostri olivietti, i nostri terrazzamenti sono la bellezza collinare del nostro territorio. Quindi su questo noi ci stiamo puntando e abbiamo dato il massimo e credo che tutti abbiano appresso quello che abbiamo fatto. Poi dopo per quanto riguarda lo sviluppo economico, siamo partiti dalla cortona sviluppo con le sale congressi, ricevendo appunto nelle sale congressi aziende importanti e non solo, ma abbiamo anche uno sviluppo imprenditoriale molto importante nel nostro territorio, ringrazio tutti gli imprenditori, artigiani e industriali presenti. Nella zona Pippe faremo una riqualificazione a 360 gradi, porteremo anche l'acquedotto, mi faccio caso che Carini scopa l'acquedotto del Pippe, visto che è uno dei promotori, diciamo così, delle caselle politiche nove acque e che magari poteva darmi una mano a sollecitare le stesse. Però tuttavia abbiamo in un'interrotto, tuttavia Carini scopre il Pippe solo adesso, mentre noi lo stiamo frequentando oramai da anni, avendo anche lavorato in quella zona, so bene cosa necessita. E concludo recuperando i 15 secondi di prima, dicendo che noi siamo dalla parte degli imprenditori dell'economia e tutte le realtà che davvero danno lustro al territorio comunale. E noi ci fermiamo perché è finito il tempo a disposizione, ma restate con noi tra poco per la terza parte dedicata al Comune di Cortona. Terza parte dedicata ai candidati del Comune di Cortona, iniziamo a parlare di un argomento fra virgolette bollente, che è quello della sanità, che insomma ha visto spesso anche in passato il Comune di Cortona, con i sindaci, sono succeduti sempre a avere una posizione molto delicata e molto critica, considerando le scelte in materia sanitaria. E se dico ospedale della fratta, caro Meoni, lei come mi risponde? È soddisfatto o no di quello che è stato fatto finora? E soprattutto esiste una valorizzazione di questa struttura sanitaria e ospedaliere? Sono abbastanza soddisfatto, vorrei spiegare subito che nel 2019, quando noi siamo arrivati al governo della città di Cortona, l'ospedale tra virgolette era pressoché chiuso come reparti. I migliori professionisti se ne erano andati e non capivamo lì per lì cosa poteva aver provocato tutto ciò. Poi l'abbiamo capito subito con la prima conferenza. Noi eravamo in rete con Nottola, quindi chi ha preceduto la nostra amministrazione centrodestra aveva come dire, tra virgolette sempre, svenduto l'ospedale alla rete senese. Perché dico questo? Perché noi contavamo il 50% come conferenza dei sindaci dei cinque comuni. L'altro 50% contava la conferenza senese. Quindi abbiamo subito capito che non era più il caso di percorrere questa strada e abbiamo chiesto il rientro nel distretto a retino. Questo perché? Perché ci ha consentito di andare a trattare argomenti proprio di sanità e portare anche successi. Dopodiché è arrivato il Covid nel marzo 2020 circa e siamo rimasti due anni inchiodati con l'emergenza Covid. Abbiamo anche offerto, tra virgolette, sempre il reparto che era vuoto dell'ospedale per il reparto Covid perché dovevamo in quel momento dare una mano anche all'ospedale di Arezzo. Ci mancherebbe altro. Però finito l'emergenza abbiamo subito richiesto al direttore generale di avere dei reparti anche alla fratta. Cosa? L'ortopedia che oggi è una piccola ortopedia ma è un'eccellenza con un grande ortopedico. Abbiamo un grande chirurgo bravissimo che ha recuperato quel gap negativo dell'ospedale rispetto alla chirurgia. Abbiamo chiesto l'HDU che ancora non è stata attivata perché evidentemente mancano purtroppo i medici. E qui mi lasci fare una parentesi. Molti dicono PNRR, più edifici. Gli edifici ne abbiamo già troppi. Nella sanità non mancano gli edifici. All'ospedale della fratta ci sono le reparti ancora da sfruttare. Mancano i medici, non gli edifici. Noi stiamo chiedendo più numero in termini di medici, più infermieri. Manca questo e quindi quello che non siamo ancora troppo soddisfatti è il pronto soccorso perché crediamo che in delle occasioni stia dando delle soddisfazioni e in delle altre un po' meno. E mi fermo qui. Quindi credo che il pronto soccorso, che sia il punto fondamentale di arrivo per salvare anche le vite umane, debba essere rafforzato. Su questo ci stiamo lavorando. Poi c'è tutta la sanità territoriale perché non ci dimentichiamo che non c'è solo l'ospedale della fratta. Abbiamo bisogno di potenziare anche la medicina territoriale. Anche qui una carenza di medici. Abbiamo visto quando qualche medico di condotta va in pensione cosa succede. Ci sono subito delle criticità e noi su questo ci stiamo puntando. Abbiamo anche avuto la necessità di guardia medica pediatrica. Su questo vorremmo attivare veramente H24, un percorso sul tal senso. E poi continuiamo a chiedere quella che è l'emergenza vera. L'emergenza vera, una volta, quando noi abbiamo fatto battaglie 20 anni fa, chiedevamo il medico sul 118 operativo. Oggi questo medico, abbiamo l'automedica, sì, ma chiediamo espressamente che torni il sistema, che ogni ambulanza abbia un medico a bordo. Grazie. Vignini. Intanto io vorrei un pochino ampliare la questione, nel senso che qui c'è un problema che non è soltanto della fratta, della gruccia, del sistema retino. C'è un problema in Toscana che è quello dell'avanzare della sanità privata nei confronti della sanità pubblica. Questa è una questione politica che deve essere affrontata alla fonte perché uno dei problemi che ha avuto anche l'ospedale della fratta è questo. Cioè alcuni professionisti, legittimamente dal loro punto di vista, si intende, hanno abbandonato il sistema pubblico per andare in sistemi privati che li pagano meglio. Quindi innanzitutto cominciamo a ragionare in questi termini che non è una cosa da poco. Dopodiché, io potrei essere anche d'accordo con gran parte delle cose che ha detto finora Mioni, però gli voglio ricordare una cosina, cioè che lui cinque anni è stato presidente della conferenza dei sindaci. Se c'è bisogno di più medici, di più infermieri, di più personale medico, doveva riuscire in qualche maniera a farseli dare, anche battendo i pugni sul tavolo e anche con la regione, non c'è niente di male, voglio dire, e soprattutto con il direttore generale. Se l'hai battuto non hai ottenuto granché. Scusa però, se no facciamo un dibattito. L'altra questione è quella appunto della sanità territoriale. Ora, anche qui, noi segniamo un meno perché la Casa della Salute di Cortona, da hub, che era, cioè da punto fondamentale di rilievo, sta diventando spocca in questo momento, ed è Castiglione Fiorentino invece a prendere il posto che era di Cortona. Alcuni servizi si sono già trasferiti, uno è quello della psichiatria, altri si trasferiranno nei prossimi mesi, ed evidentemente questa cosa non ci fa piacere, ma non perché c'è bisogno di una medaglia da puntarsi sul petto, ma perché 22.000 abitanti del comune di Cortona, soprattutto quelli che abitano in zone disagiate, o che sono loro in situazioni disagiate, dovranno spostarsi mentre prima avevano i servizi in casa. Mi pare questo un evidente fallimento di questa politica. Dopodiché, ripeto, tutto quello che ha detto Meoni, lo sposo, bisogna chiedere, bisogna avere, ma finora non ci siamo riusciti. Proveremo noi, evidentemente, a ottenere quello che non è stato possibile ottenere finora. Dico anche un'altra cosa, anche sulla questione del pronto soccorso, c'è un problema. E' un problema che però è dovuto anche al fatto che alla fratta, in questi cinque anni, un vero e proprio pronto soccorso non c'è stato. Oltre al fatto, anche io sarò prudente, che alcune, chiudo, che alcune professionalità che lì sono state impiegate, diciamo, non erano tutte all'altezza della situazione. Castellani. Ricondurre tutto alle persone, soprattutto quando si parla di sanità, è forse l'errore più grosso che un'amministrazione, un sindaco e una conferenza dei sindaci può fare. Perché chi in questo momento opera in sanità, e mi riferisco a tutti gli operatori che sono all'interno dell'ospedale della fratta, sicuramente fanno molto di più di quello che gli compete. Perché hanno un contratto che non viene rinnovato ormai da tantissimi anni, sia quello del settore infermieristico che quello del settore medico. E di questo, mi dispiace, ma la responsabilità è sicuramente in parte del Direttore Generale, in parte della Regione, che se ne approfittano. Se ne approfittano per incompetenza delle persone che in questo momento non sono state in grado nemmeno di mettere sul tavolo quelli che erano i requisiti fondamentali e sostanziali che un pronto soccorso e tutte le altre unità operative devono avere. Se non si va a parlare con queste persone con cognizione di causa, con competenza, con capacità, facendo vedere nero su bianco che i requisiti della Regione Toscana richiedono determinate cose per un pronto soccorso che attualmente all'ospedale della Fratta non ci sono, sicuramente queste persone ti prendono in giro dandoti un'ortopedia, un'oculistica, promettendoti dei reparti che tutto sommato sicuramente sono importanti, ma sicuramente non ti risolvono il problema perché gli operatori sono sempre sottodimensionati, lavorano più ore di quelle che sono necessarie e di conseguenza qui si crea il problema del rischio, sia a favore dell'operatore sanitario che a favore del paziente. Tutto questo deve cessare, quindi all'interno del pronto soccorso ci devono essere delle cose che in questo momento non ci sono, fare in modo che nell'ospedale della Fratta torni la terapia intensiva, una subintensiva UTIC che in questo momento non c'è e quindi fare in modo che queste cose ci siano perché sono previste nei requisiti sanitari della regione toscana. Se questo non c'è, non solo battere i pugni sul tavolo perché il battere i pugni sul tavolo è sempre qualcosa che non porta a un dialogo, non porta a qualcosa di costruttivo, fare delle istanze, fare in modo che a queste cose ci siano delle risposte fattive, stessa cosa per una gestione del rischio sanitario all'interno dell'ospedale della Fratta che è gestito così, all'acqua di rose, cosa che spesso accade un po' in Toscana, ci vendiamo come una regione virtuosa ma in realtà non lo siamo per niente. Vengo stamattina da una riunione che ho fatto con la regione Abruzzo dove stanno lanciando un progetto One Health proprio per il benessere assoluto di tutta la cittadinanza inteso come benessere territoriale, sanitario e ospedaliero. Grazie Castellani, Nicola. Piccola precisazione su Creti e sull'acqua al vallone, la mozione la poteva presentare tranquillamente il sindaco perché poche settimane fa abbiamo votato il DUP e purtroppo non ci ha capito molto su come funziona la provincia, continuano ad andare a fare le giratine. Se lavorava sul vallone sa che il progetto del 2018 lo poteva aver finanziato senza prometterlo successivamente. Per la sanità è un problema fondamentale il pronto soccorso, è un problema che non abbiamo risolto in questi 5 anni ma dico di più in questi 10 anni. Dobbiamo intervenire sicuramente in termini strutturali come diceva Verusca prima di me ma anche e soprattutto in competenze perché non tutti come ha detto Vignini ma qualche problematica c'è. Per quanto riguarda i reparti concordo con il sindaco del fatto che siamo migliorati però adesso c'è un allarme perché questo miglioramento comporta il fatto che i medici che attualmente lavorano lì sono in difficoltà anche qui per logistica, per attrezzature, per personale. Dobbiamo necessariamente intervenire onde evitare che questi ottimi professionisti che stanno facendo un ottimo lavoro se ne vadano. Il discorso della Cassata della Salute lo ha detto Vignini concordo l'abbiamo perso a favore di Castiglione Fiorentino quindi abbiamo perso servizi per il nostro territorio. Chiudo con un'altra battaglia che è il direttore di Stretto. Noi dovevamo avere a novembre una nuova nomina invece abbiamo saputo in queste ore che l'attuale direttore si è dimesso la dottoressa Giotti con decorrenza il primo luglio e questi sono giochini che noi non accettiamo più perché è la politica che deve decidere rispetto a queste cose e non l'azienda che lo fa in un momento elettorale non compatibile col fatto che la politica possa parlare di queste cose che sono cose importanti quindi crediamo che anche il rapporto con l'azienda vada rivisto perché o è nel segno del rispetto e della politica e di tutti gli attori in campo o se no dovremmo cambiare registro anche noi Scusi Carini lei vuol dire che in questo momento è mancato un riferimento diretto l'azienda si è erogata una responsabilità io so che la dottoressa in questo momento ha rassegnato le dimissioni con decorrenza primo luglio in un momento di campagna elettorale e credo che questo non sia corretto il presidente della conferenza dei sindaci penso che lo sapesse gli altri sindaci non lo sapevano e questo credo che sia molto grave peggio mi sento nel turno successivo se Meoni vuol chiarire questo aspetto visto che è stato investito anche nell'altro ruolo che ha Sara Baldetti il pronto soccorso dell'ospedale Santa Margherita dovrebbe servire 50.000 utenti circa più di 50.000 e attualmente non ha le caratteristiche sia tecniche che dal punto di vista strumentale di ciò che è necessario perché ciò sia efficiente e si possa chiamare pronto soccorso quindi sicuramente come sappiamo tutti manca una una rianimazione cioè in realtà non c'è mai stata non è che deve tornare non c'è proprio mai stata la subintensiva non c'è l'unità di terapia cardiologica non c'è manca il personale soprattutto medico non infermeristico perché a me risulta che il problema principale è il personale medico questi problemi sono problemi che riguardano non solo l'ospedale della fratta ovviamente e non solo un discorso di Toscana è un problema diciamo di disinvestimento in alcune in alcune in alcuni ospedali potenziando altri facendoli diventare dei mega ospedali e abbandonando un po' quelle che sono i piccoli ospedali questa questa tendenza va invertita ovviamente combattendo quelle armi che abbiamo che non sono poche perché comunque nella conferenza dei sindaci possiamo fare e utilizzare degli strumenti che sono anche pesanti dal punto di vista legale ma che porteranno dei risultati e su questo non bisogna mollare poi ovviamente mi rendo conto che l'investimento perché tale ospedale funzioni soprattutto per quello che riguarda il pronto soccorso si parla di grandi numeri questi grandi numeri come possiamo affrontarli ovviamente il MES sanitario era la soluzione in Europa tantissime nazioni hanno già preso il MES e i nostri medici stanno andando lì ovviamente facciamoci una domanda e diamoci una risposta grazie grazie Sara si conclude qui la terza parte dedicata al comune di Cortona restate con noi a tra poco ultima parte per i candidati del comune di Cortona intanto frazioni Cortona è una provincia non è un comune partite da Sant'Andrea di Sorbello finita Lettianace insomma chi fa il segno di Cortona ha a che fare con un territorio vastissimo secondo lei le frazioni sono state ben servite in questi anni o no? noi abbiamo un progetto per la sicurezza delle frazioni che riguarda la videosorveglianza da implementare nelle frazioni dove non c'è un progetto ovviamente di un maggior decoro urbano una maggior pulizia delle frazioni e inoltre riteniamo che lo sviluppo del turismo debba partire appunto dalle frazioni non dobbiamo fermarci solamente a Cortona ma cercare di creare una rete organizzativa di eventi in tutte le frazioni questo per ridare vita anche alle frazioni proprio in termini di turismo quindi riteniamo che ci sia da fare ecco ricordiamo insomma che una frazione di Camiuscia sono 7000 abitanti ecco e quindi diventa una realtà a se stante Terontola è già storicamente una realtà che poi è un comune separato come poi un'enclave esterna è il mercatario di Cortona quindi non c'è dubbio che il sindaco di Cortona deve gestire realtà non semplici proprio perché sono le esigenze dei territori e dei distretti che poi portano a nuove problematiche una valorizzazione appunto anche delle aree verdi delle varie frazioni che possono diventare i luoghi perfetti per fare eventi anche di ovviamente di un certo tipo di numeri insomma perché Cortona centro storico non può supportare i grandi carichi quindi 10.000 abitanti di Camuscia mi conferma Carini? Sì sicuramente no qualcosa meno però insomma è sicuramente un punto di riferimento importante per il nostro territorio per quanto riguarda le frazioni noi dobbiamo lavorare sicuramente sulla sicurezza stradale tutte le frazioni hanno un problema in tal senso abbiamo messo i box arancioni ma non ci abbiamo mai messo gli autovelox e non per fare cassa ma per far capire che c'è la possibilità anche che ci siano quindi di fatto abbiamo vanificato quel tipo di intervento crediamo che dobbiamo fare alcuni interventi importanti uno su tutti ha un semaforo intelligente nella frazione di Terontola dove arriva il traffico dalla superstrada lì dobbiamo investire perché questi nuovi semafori se vai sopra una certa velocità scatta il rosso e ti fermano per il discorso della sicurezza poi dobbiamo anche intervenire sul terzo turno dei vigili assumendo 3 barra 4 vigili in più per poter fare il terzo turno sicuramente il discorso delle telecamere di nuova generazione con l'intelligenza artificiale ci possono aiutare ci sono telecamere che riconoscono il reato e quindi attraverso quello risparmiamo personale che sta dietro la telecamera perché fa tutto la telecamera stessa chiudo con la cortona sviluppo a seguito insomma delle dimissioni del consiglio dell'allora cortona sviluppo il centro-destra con proposta se non mi ricordo male di Forza Italia approvata tutto il centro-destra ha fatto l'amministratore unico che ha dato segnali importanti risultati importanti ecco è stata una prima scelta diversa rispetto a tutte le scelte non fatte che invece andavano nel solco del centro-sinistra abbiamo svoltato e abbiamo visto i risultati ricordo però che uno dei motivi per cui l'amministrazione si è dimesso fu la non condivisione sul fatto di prendere il mattatorio di Sinalunga che avrebbe comportato invece di un più nei confronti del bilancio un meno perché se voi andate è una cosa simpatica a guardare la campagna elettorale adesso di Sinalunga ci sono candidati consiglieri a Sinalunga che fanno vedere le faticenze del mattatorio di Sinalunga ecco credo che anche in quel caso lì fortunatamente ci siamo riusciti a imporre con tanta fatica ma come dire i risultati poi si sono visti Castellati dunque le frazioni non hanno bisogno soltanto di sicurezza le frazioni hanno bisogno anche di essere considerate un po' tutto perché se si parla soltanto e tutto si riduce alla questione della sicurezza delle strade che è sicuramente un problema si perde di vista poi l'importanza che una frazione può avere per un comune proprio per questo l'idea di creare i comitati di partecipazione cui prima ho accennato è proprio quello di fare sì che si torni un po' a parlare di quelle che erano una volta le circoscrizioni oggi non sono più possibili le circoscrizioni perché sono superiori sono ammesse soltanto per comuni superiore a 250.000 abitanti ma far capire ad ogni frazione che potrebbe costituirsi e creare un comitato di partecipazione per portare a conoscenza del comune quelle che sono le cose da fare le istanze le modifiche territoriali credo che questo sia sicuramente considerare una frazione nel suo complesso ammesse non concesso che non c'è soltanto Teronto la Mercatale e Camuscia che sicuramente hanno delle caratteristiche sia territoriali che abitative di un certo tipo ma ci sono anche altre frazioni che sicuramente già adesso hanno dato esempio di sapersi muovere e di poter fare qualcosa per il territorio per quanto riguarda ultimo accenno alla cortona sviluppo mi associo a quello che ha detto Carini sicuramente dal punto di vista nostro il concetto dell'amministratore unico rimane perché trovo che quello che di buono è stato fatto debba essere mantenuto quindi stimo moltissimo Fabio Procacci e credo che il lavoro che abbia fatto è sicuramente meritevole sicuramente la cortona sviluppo deve essere implementata gli devono essere date delle competenze in più rispetto a quelle che adesso svolge quindi su questo siamo d'accordo Verusca non volevo dimenticare le chianacce che hai visto che è una frazione importante esatto no no lo sanno da sé lo sanno da loro andrà a Vignini sì voglio dire il comune di Cortona è 342 km2 ha 42 toponimi quindi teoricamente sono 42 frazioni 44 cimiteri cosa che mi interessa anche per il doppio evidentemente è complicato gestirlo noi abbiamo dei progetti innanzitutto per le frazioni come dire più grandi che tu hai già citato per esempio su Mercatale vogliamo ampliare il centro civico che è stato fatto e sul quale noi abbiamo molti dubbi devo dire in modo che possa ospitare di nuovo una cucina e quindi anche le sagre che erano una delle ricchezze di quella frazione su Terontola abbiamo un progetto di fare un nuovo asilo nido su Camucia vogliamo mettere mano all'ex magazzino della stazione di Camucia per farci un centro civico per anziani e ragazzi ma a proposito di Fratticciola per esempio questo è uno degli esempi di cultura che deve essere appunto sparsa in tutto il territorio il museo della civiltà contadina deve essere inserito stabilmente all'interno del circuito culturale come finora non è stato fatto e sia chiaro quando dico finora parlo anche delle amministrazioni precedenti non solo di quella di Meoni che comunque anche lui non l'ha fatto dopodiché io penso che oggettivamente si tratti effettivamente di mettere anche mano alla rete di aria anche qui ci sono oltre mille chilometri di strade comunali centinaia e centinaia di chilometri di strade vicinali alcune di quelle le vicinali ad uso pubblico devono essere modificate non tutte per carità di via impossibile sarebbe una promessa da marinaio però alcune di queste strade che oggi veramente sono percorse dai pulmini dai mezzi della nettezza urbana devono essere fatte proprie dal comune infine sulla cortona sviluppo sono d'accordo sul giudizio positivo per quanto riguarda gli spettacoli e anche al limite anche se in maniera minore la convennistica sono estremamente critico sulla gestione cimiteriale della cortona sviluppo invece i cimiteri sono in condizioni pietose i rifiuti cimiteriali sono stati lasciati su dei sacchi per mesi e mesi e questo è francamente insostenibile e altra cosa devo dire che a suo tempo il sindaco attuale aveva promesso di riportare all'interno dell'amministrazione comunale la gestione dei cimiteri non l'ha fatto io credo che non lo potesse fare quindi sono disponibile anche a perdonargli la questa defaianza però sarebbe opportuno che lui di questo si rendesse conto per il presente ed eventualmente anche per il futuro penso davvero che bisogna invece che ampliare ulteriormente le competenze della cortona sviluppo che assicuro che ce ne ha tantissime perché lo statuto della cortona sviluppo è quanto di più ampio possibile immaginabile io credo che invece bisogna assegnare più risorse a questo settore particolarmente importante perché gli affetti verso i nostri cari defunti devono essere tutelati grazie Andrea e chiudiamo con Luciano Meoni e prego l'attenzione che abbiamo posto alle frazioni mai come questa volta era stata posta basti guardare la riqualificazione di tutta Camuscia alla piazza che hanno fatto petizioni contro adesso ci fanno il gazebo come partito democratico insomma abbiamo anche assistito a delle robe imbarazzanti comunque via via lauretana tutta riqualificata Camuscia nelle zone interne dobbiamo ancora finire via Fratelli Cervie via Di Murata ma anche a Terontro proprio oggi abbiamo approvato una mozione di giunta scusate una delibera di giunta per far sì che possa essere sviluppato il progetto col finanziamento GAL per la riqualificazione del parco Robinson del parco Madre Teresa ma non è tutto ciò abbiamo asfaltato decine di chilometri di strade che erano state per anni tralasciate la storia che dice adesso il PD Vignini è una storia delle strade vicinali che noi abbiamo messo proprio nel nostro programma perché lo vogliamo fare alcune zone alcune strade vanno riqualificate e manutentate come comuni la cortona sviluppo rispondo anche a Carini la cortona sviluppo siamo arrivati con un CDA ma la colpa non era nostra era dei partiti perché io ricordo che oggi quel signore che appoggia Casucci che appoggia come Lega Carini è colui che voleva mantenere il CDA della cortona sviluppo perché forse evidentemente aveva interesse a mantenerlo quindi è troppo facile dare la colpa al sindaco io però ho avuto anche il coraggio di dice basta cambiamo e abbiamo fatto un amministratore scelto dal sottoscritto il dottor Procaci che ha portato un'azienda a fatturare oggi 2.150.000 euro 54 milioni di fatturato nel 2023 con un successo veramente non scontato con sale congress che sono davvero un'eccellenza e soprattutto con un investimento al mattatoio che è un mattatoio che dà servizio pubblico a tutti gli effetti che non era accaduto negli ultimi 30 anni quindi noi abbiamo saputo fare anche impresa ed azienda sui cimiteri rispondo che abbiamo trovato il cimitero di Poggione crollato e l'abbiamo ricostruito il cimitero di Fasciano c'è il cantiere oggi il cimitero di Creti c'è il cantiere quindi quello che dice Vignini non lo accetto perché evidentemente non si ricorda essendo stato dieci anni scorato da Cortona quindi lavorando a Foiano non conosce più quello che è il territorio comunale di Cortona noi lo conosciamo molto bene abbiamo messo mani alla rete cimiteriale che sono tanti ma debbono essere gestiti in maniera ancora migliore di quello che vengono gestiti oggi sulle lampade votive abbiamo abbassato anche quello che era il nostro il nostro auspicio quello che era diciamo il trend negativo rispetto al precedente concludo dicendo che abbiamo abbassato anche le tariffe sul rinnovo dei loculi perché da 1300 euro che l'abbiamo trovata l'abbiamo abbassato 800 potevamo abbassarla ancora di più ma erano state date a garanzia precedentemente dalle giunte di sinistra e non potevano essere abbassati sotto gli 800 ma sulla sicurezza concludo dicendo anche che abbiamo portato telecamere collettori targa anche a mercatale quindi anche questo abbiamo il vanto di aver promosso la sicurezza nel territorio grazie a Luciano Mioni grazie ad Andrea Vignini a Mirusca Castellani Nicola Canini e Sara Baldetti io devo dire una cosa sarete chiamati una grande responsabilità ma anche un grande onore perché insomma fare il sindaco di Cortona è una bella cosa sicuramente meglio di quello di Afragola o dei comuni della mafia della camorra napoletana quindi essere signora di Cortona è un onore è una grande responsabilità che a uno di voi toccherà e mi raccomando siate all'altezza siate i nuovi lucumoni o non so se il lucumone era anche per le donne questo non ricordo comunque siccome la storia e la tradizione ve lo impone mi auguro che possiate raggiungere questo grande risultato proprio perché Cortona merita una grande visibilità una grande responsabilità e vi ricordo l'appuntamento con la diretta elettorale lunedì sera a partire da ore 16 minuto per minuto vi racconteremo come andranno le elezioni nei 26 comuni della provincia di Rezzo tra poco il comune di Terranova Bracciolini restate con noi grazie a tutti Grazie a tutti.